importante. Siamo l'unica scuola, abbiamo cominciato dall'asilo nido quest'anno con il liceo, il sogno di 40 anni l'abbiamo realizzato quest'anno. Poi siamo la scuola mista, siamo l'unica scuola cristiana mista, anche se la maggioranza sono musulmani, ma tutti corrono alla disciplina e ogni anno il ramo femminile aumenta grazie a quest'abito. Non a padre Mario, questo perché i francescani sempre lavorano tanto, sono da secoli a Gerico. Il pericolo di Gerico è che sono molto lenti, si accontentano del poco. Io sono un borcano, devo cambiare, devo fare, devo migliorare. Da tre anni ho trascinato tutti dietro di me, nonostante questo che sono molto deciso e fermo, ma grazie a Dio tutti mi vogliono bene, perché sanno che non faccio per me, ma faccio per loro. E la relazione tra i cristiani e i musulmani a Gerico è molto diversa da Betlemme. Qui il capo dei musulmani, il sheikh, siamo molto amici. Tre giorni fa è venuto Abu Mazen qui a aprire una via nuova e erano persone precise che sono stati chiamati, ero io tra di loro. Il sheikh accanto a me, quando è arrivato dal sheikh, il sheikh invece di parlare con il presidente di se stesso, ha parlato di me. Questo mio amico, mio fratello, siamo fieri a Gerico, nonostante che tutto arriva al presidente. Questo cosa vuol dire, io ho fatto quello che ha fatto Gesù e Gesù è andato sempre verso le persone, non aveva niente paura, perché non aveva niente da nascondersi. Io ho cercato di imitare lui, questo è il punto che io ho accettato di venire a Gerico e questo è il punto che mi fa male. Grazie per essere. Grazie. Allora.